Da oggi fino al 3 agosto è possibile presentare le domande per accedere al Fondo Riduzioni Tari 2021. Il Comune infatti ha stanziato 1.800.000 euro per diminuire gli importi della tassa sui rifiuti. L'iniziativa riguarda sia le attività produttive, per le quali lo sconto sarà automatico e verrà applicato direttamente in bolletta, sia per le utenze domestiche, ma in quest'ultimo caso è necessario inviare una richiesta. Per chi ha un'ISE non superiore a 8.265 euro, la riduzione è del 100%, mentre se è compreso tra lo stesso importo e 13.000 euro, l'abbassamento si attesta al 60%. Siamo voluti venire incontro a tutte quelle famiglie, ha spiegato il sindaco Seri, che hanno subito in maniera pressante le conseguenze della pandemia. Abbiamo messo sul piatto 500.000 euro di risorse e di finanza locale affinché nessuno rimanga indietro. La decisione, promossa dall'assessorato alle finanze, è stata presa insieme alle sigle sindacali per fronteggiare le nuove emergenze che si sono palesate in questa fase storica molto complicata dal punto di vista economico. Per fare la richiesta ci sono tre modalità. Uno è accreditandosi sulla piattaforma del Comune di Fano, che trovate nel sito del Comune di Fano, dove comunque si fa questa richiesta con allegato l'ISE, accreditandosi con una identità digitale, quindi SPID, carta di identità digitale, oppure una carta nazionale dei servizi. La seconda possibilità è quella di inviare una PEC all'indirizzo comunefanochiocciolaemarche.it oppure mandando semplicemente un'email all'indirizzo emailriduzionitali.comune.fano.piu.it Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in regola con i versamenti della Tari al 31 dicembre 2019. Grazie a tutti.